Grazie a tutti. Allora, stringetevi, sì, sistematevi, la signora in rosa per favore è più dentro la foto, grazie. Mi sono veduto uno schifo qua. Guardate tutte qui, qui e sorridete. E adesso dentro i maiti. Guardate, uno, ne abbiamo uno, ne abbiamo uno. Guarda verso dentro, guarda verso dentro, Alfonso, Alfonso. Ai Alfonso, che ha passato carino. Scusa, Virna, 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 fatti un po' più spazio. Sali uno, tanto Pedro è alto, eh. Mettiti accanto a Pedro dietro, vediamo un altro. Eccolo. Questa quella trista che... Facciamo, rifarciamole tutte. Prima con i personaggi. Personaggi, ognuno il suo personaggio, eh. Ma che belli questi personaggi, guarda che belli attori. A presto. Musica. 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 Grazie a tutti.